ciao a tutti amici oggi ci troviamo a roma zona maiana all'ospedale dei cavalieri di malta o san giovanni battista come potete vedere già dietro di me lo entra vedete adesso iniziamo il nostro giro e vi faccio vedere l'esterno qualche altra cosa io qua sono il parcheggio esterno la struttura non so di che anno sia certo qualche anno avrà e come potete vedere non è moderna adesso ci facciamo un giro da lì c'è l'entrata come vedete c'è il gabbiotto mi avvicino a questa entrata a forma di arco io non no aspetta io già ci sono stato qui questa è la seconda volta la seconda volta si guardate che bello l'altra volta ho fatto una visita ma non mi ero fatto un giro guardate guardate che bellissima puntana la prima volta ho fatto un giro è le persone che si parla di un giro è molto più l'altra volta che ho fatto un giro è molto più l'altra volta e lo faccio un giro è molto più la seconda volta ho fatto un giro è molto più la cosa antipatica di quando faccio questi video è che se uno sta fermo il video viene bene ma quando uno cammina c'è questo problema del movimento del sobbassamento se così si può dire come vedete c'è la bandiera dei Cavaliari di Malta dell'Udine questo è il simbolo dell'Udine dei Cavaliari di Malta questa struttura non sa cosa sia ah ho capito praticamente si ricongiunge a quell'entrata da dove abbiamo visto questa fontana bello eh guardate il soffitto di questa nicchia c'è un simbolo da qua non riesco a farvelo vedere e usciamo il simbolo dell'Udine sta dappertutto guardate anche per terra sul pavimento guardate che bello un cavaliere che cosa sono? ah delle tavole delle tavole di legno condipinto il cavaliere con la bandiera con l'Udine dei Cavaliari di Malta guardate pure che cosa c'è qui poni un poni e un asino guardate il cavaliere guardate il cavaliere guardate il cavaliere ok amici e ci vediamo al prossimo video